Musica Voi siete un piccolo comune della provincia di Perugia, come si fa correttamente raccolta differenziata nelle realtà di provincia? Ma sicuramente credo che la ricetta migliore per fare una raccolta differenziata e raggiungere i livelli che siamo riusciti a raggiungere noi nel comune di Piegaro è sicuramente l'informazione alla cittadinanza, ma anche il grande impegno che i nostri cittadini hanno messo, ma anche la volontà di raggiungere certi obiettivi, ma soprattutto la necessità di voler crescere e rispettare l'ambiente. Sicuramente è il nostro obiettivo raggiungere valori e percentuali molto più elevate, anche perché sia di soddisfazione per l'impegno che hanno messo i nostri cittadini del comune di Piegaro.